Senti Daniel! Ma che tu stai? Oh madonna Ah ecco ti ok Mi stai a fianco Ok mi stai a fianco Allora praticamente partiamo sicuramente tutti con lanciarazzi E praticamente la squadra deve fare tipo mi pare o 5 o 6 uccisioni con quest'arma Una volta che abbiamo fatto 6 uccisioni con quest'arma Oddio aspetta fammi vedere se siamo nella stessa squadra Ok siamo nella stessa squadra Quella viola Ma siamo nella squadra dei proci quelli viola No rosa rosa quella rosa Rosa? Vabbè ma pure il viola Praticamente Ebbè abbastanza E praticamente una volta abbiamo fatto 6 uccisioni con questa categoria d'arma Se passa la successiva Che sarebbe il minigun Col minigun ti diverti in sacco Però è un po' più difficile Ah ma va scalando quindi Sì se scala Se arriverà al macete La so cazzi Perché col macete ovviamente è abbastanza difficile Però col macete non è che devi Però non è che devi fare 6 uccisioni col macete Eh vabbè se no sarebbe stato troppo Ne devi fare solo una E in più c'è il vantaggio Che la squadra che c'ha i macete Sono nascosti da radar Dell'avversario Quindi ti immagina Ok mo se parte con lanciarazzi A post Penso che morirò tipo Ah abbiamo munizioni infinite Le prime due armi sono a munizioni infinite Finite Oh non ci so uno non mi chiede come Io sto a lanciare la lanciarazzando la cazzo di cane proprio Guarda che casino Daniel Quando siamo tanti è così Cioè non conta quanto uccisioni Cioè le uccisioni sono della squadra Poi alla fine ti dice quante uccisioni hai fatto te Come sempre E poi Guarda che casino Ecco Hai preso il volo Il volo Ma me stai dietro Sì te stavo chiedo Già stanno col mini Ah no Mi sa che la barra Stavo a vincere noi Sì Mi sa che hanno messo la barra un po' più lunga Ecco noi abbiamo il mini canne Ah ma è solo Più o meno Però quando siamo tanti è più bello Ma perché siamo troppi Non ci si capisce niente Cioè è un casino Guarda qua Chi è là che sta a sparare Io a lui Oh un mio amico Cioè no no io L'avversario Vabbè Scimperd Guarda quello Lo vedo Lo vedo Spero che non vedo la mia capocchiella Guarda tu camper o no Ho visto Eh infatti si stanno a camper Oh Lo so che ha tu Ecco Le carabine Mo se possono pre nasconde Più che altro Questo è il problema Se possono pre nasconde Oddio uno sta sopra un altro Ti sta a far manzo Per caso Uno e vedessi Guarda quanti Guarda quanti Guarda quanti Guarda quanti Stanno tutti Ma io ne sono riuscito a manzo Manco uno Forse il minigun è la categoria d'arma che riesco Ecco Finiti di minigun Oh Oh my god Capiato uno Allora Ecco un altro Ma che è oh Quella Gli ha piado l'infarto Oh sta mai monta? No revolver cacchio Che belle quanto mi piace Oh penso che sia tipo No Pallettoni 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 Sai che c'hanno pure loro le revolvere Sì Eh Se è mossa all'ultimo Ah, gli ha preso l'infarto C'hanno i fucili a canne mozzi Oh, ma che cazzo C'è sta una parte di squadra che fa Faville, l'altra squadra invece è un peso morto Incredibile No, vabbè, ma la portata di quest'arma è troppo bassa Non me li, non me li Non me ne mette in qualche modo L'unica cosa è quella, però il resto è figa Sì, è vero Cioè, vabbè, un po' difficile Per me è un po' difficile usare quest'arma Però c'è la stessa Diciamo la stessa potenza più o meno per il fucile a pompa Soltanto che c'è una gittata Beh, notevolmente più alta Beh, stessa Vabbè, infatti il fucile No, c'hanno il macete, Daniel C'hanno il macete Però almeno c'ho il fucile a pompa Che sulla distanza breve è ottima Io qua campano in genere No Stai ucciso a te Cioè, spiega, me ne dovevano ammazzare solo uno Solo uno, sì Signori, zero uccisioni Zero morti, scusa Oh, pure il primo Madonna Aspettavo No, non me l'ero scorsato Cioè, avevo capito No, non so che cazzo avevo capito No, solo uno non si può Eh, calcola, infatti sì Perché Le prime volte pure c'è stato rimasto un po' male Perché quello che Perché a corpo a corpo Ti faccio schifo Ti ricordi, no? Che io a corpo a corpo Perdo sempre Eh, però con colpo muore Cioè, hai capito? Non so se Mi spiego Con colpo, sì, sì Quanti round sono Sono, mi pare, il primo che vince due round Però questo durava notevolmente di meno Quando siamo in tanti, sì, durate meno Allora, qua è un problema Qua do a cambiare zona Perché qua passa che prendi i portoni Ti fai 10.000 uccisioni perché Ammellacciarati da questa parte Non mi piacciono perché Perché no Ma guarda quello Se si ferma sta visuale Può essere qualcosa fatto Oh, l'ho preso C'è la prima volta che sto facendo uccisioni così Sparando la cazzo di cane Mi so, ho convinto Quella c'è stato qualcuno Aspetta, stanno avvenire al lato Stanno avvenire Ah va Ma se si ferma sta visuale Può essere che qualcosa combino Però Questa continua a ballare E giustamente Ah, guarda quello Sta, sta campionata in là No, guarda quello Ma piatto Attenzione prima morte Però che palle Quando non Non mi abbia pensato Quando stava la stessa Ma se possono No, no Stersau Cosa? Oh Questa, quello è No La ragazza ma fa schifo A questa Ma dove sta? No, così Giusto per domandare Ah Sto a prendere In the face Sicuramente ma E pia L'opera Che poi c'è sta Coglione Giro di me Che mi via Giustamente Mi pare logico No No, no Sempre Lui che mi ha preso Come vi sta fatto Da morto Cioè ho anche Questa, quello mezzo Arancione e mezzo Mezzo Perché c'è di bolla La sfumatura arancione Ah ma se ti sei Ah E perc' arancione Ah boh Sono trans, Daniel No No C'è un po' Miniganni Cacchio Cioè è un po' Vantaggioso No vabbè Un bel po' Però io non so Usare Starno Proprio nulla Da fa' Ah va Ho preso Un deface Oh E Oh Grazie a me Adesso usiamo I miniganni E mo Chissà quanto Duro Mazza Viglio Alta quello Senza mano Senza arma in mani Ma che sta a fa' Ma per curiosità No dall'altra parte Sbucata Mortacci Su Io non l'ho aspettato Dall'altra parte Perché la destra Perché in reale Il miniganni Si usa con l'ostacolo A destra Con l'ostacolo a sinistra Scusa Perché dato che il personaggio Usa una mano alla volta E non capisco perché Sbuchi dalla sinistra Non fa tanto No Già che così Sì perché ti ripeto Una parte della squadra E' over power E' l'altra cosa Fa' cagare No Non devi perdere Vabbè Sembra pure ovvio Che non sei buon caldo Guarda quello Facci sua E fa' So salito sopra il coso Delle bici E' sposto la testa Paglio So fa schifo Ho pure io Eppure col minigann Però diciamo che dall'altra parte E' un po' più tattico Ando E' dall'altra parte E' al campo di prima C'è stato più ostacoli Qua campo aperto E poi soprattutto E' quasi moro Oh Come ho fatto Oddio Carabinato Non mi chiede E' un po' più tattico Qua dura Io Io quello non Ah Camperino Eh no Esponi Dai l'abbè E' un'azzata e grazie a te ho fatto questa villa, grazie Bartolomeo chi sei? Bartolomeo è quello che sta vicino a te praticamente non ci sono assistita stiamo in svantaggio però vedo secondo me è un po' al campo non vorrei rosicare però sempre detto questa mappa mi piace di più l'altro campo rivolvole è pesante eh si ma dove va? che palle dove lo? dove sta là dietro? non li vi... calcola che non li vi io eh ecco porca io mi metto sopra l'autobus no non mi fa mettere sopra l'autobus e dai ma basta l'abbiamo uccisi e porca miseria però fammi mettere sopra l'autobus no ma che è fuori dalla zona ho fermi tutti se no va ah mi mettono là sopra ma perchè li vediamo? ah perchè sono fermi quei due giusto eccolo guarda quello guarda quello no 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 occhio a quello occhio a quello occhio a quello noo chi è che succede? noo cioè non è che mi hanno ucciso a me però stavo a vedere quello che stava andando davanti a uno volevo aiutare però mi hanno dato ormai cede vabbè dai secondo eh Bartolomeo quello che mi ha salvato grande Bartolomeo Bartoreu che ne pensi di questa modalità? eh figa è figa ma è meglio di quell'altro oppure meglio la scia? no vabbè sono figli so entrambi vabbè non saprei di qual è meglio forse vabbè la scia è un po' più particolare è un po' più particolare perchè non c'è stato mai una noteggia del NGT io voglio dire un po' cosa? che è che compi non ce l'ho domani no niente non c'è pensavo stessi dicendo da me dove cominciò sparare la cassa no perchè qua ti coi 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 oddio ecco cominciano a obliterare oh uno ho preso secondo me questo campo c'ho un pizzico qualcosa in più oddio mi è passato sotto i piedi guarda che casino guarda che casino ma te ne vedi eh viola con uno sfumato con la sfumatura dei arancioni si 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 io invece li vedo blu con la sfumatura dei blu quindi te sei distinguibile appena proprio io io sparo nel casino eh pure io stiamo in vantaggio che poi è bello è che nella precedente partita avevamo pure recuperato però se invece se se avessi sparato a quello forse ma non ci sta nessuno fuori è inutile infatti che continuo a spararla perchè vedo che si sono tutti spostati eh guarda quello quanti datti strutti ma serve te sto guzzan è forte guarda quello bravo eh tacci tua e se fermasse un po' la visuale può essere che qualcosa eh grande l'aveva ucciso prendo fuori qualcuno eh eh oh che ci dico eh mammo mira qua mammo mira all'al pavimento lo sapevo che mira all'al pavimento che tesoi tu? ho cambiato l'arma eccolo vaffanculo che palle ho che porca troia sto culo zanna rotta eh è anche abbastanza aggiungerei ma prima manco se lo pagassero l'animale rimont moisci e scimmrenda cricola gassolo Sto culo zanno Eccolo Eh qualcuno ha piato prima di me Miniganne E mi piace Oh sempre questo Fa un tempo a morire che è già spawnato Si vabbè va Sto culo zanno Vabbè ma levo con le pippe va C'è una figura migliore Ok vedi Già è cambiato campo La cosa è migliore Guarda quanto è lento col miniganne Ah no Volevi Vabbè ma ho fatto un po' scudo davanti Quello che stava davanti Dove sei? Ehm Ultimo fatto bianco colpo E muoverò Muoverò Dispedirio almeno underculto Che questo secondo me fa finta di essere Ah no Qua è una posizione molto sconveniente Ah va non muore Ah sto culo zanno Guarda sto culo zanno Ah non è lui Culo zanno Revolvuler Facci a sto giocopi Ah va e fa la capriolina E sbria da fa sta caprioli Tacci Eh bravo mori Ho ucciso i giocopi Oh giocopi al culo zanno eh Oddio gli mancava una uccisione a loro e a loro e c'hanno No uno No me sa due Ok l'hanno fatta Viene rimane una adesso Oddio guarda Oddio la faccio io Daniel La faccio io Daniel La faccio io Daniel La faccio io Non ho fatto io Ci stava uno E poi in questo gioco gli inattivi danneggiano gravemente la squadra eh Hai visto quello che ho fatto io? Ho ucciso l'inattivo Cioè ha messo poco l'elastichino Il farino Girava tipo Si Girava a zonzo Infatti mi sono sbrigato Onde vita che Onde vita che l'avversario Faceva eh Quindi stiamo uno a uno Che round è questo? Mi pare che a tre Boh Non vorrei a sbagliare No il campo no No questo è il round quattro Che palle Odio sto campo C'è sto lato di campo più che altro Perché dall'altra parte è più tattico C'è stanno ostacoli C'è sta C'è proprio non ti vedi Invece là vanno tutti là sotto al ponte Spara e vi dieci Sto punto conviene andare qua Oppure se vuoi Poco fa L'infame Te fai Lo giri tu Ehi e sto giocopi Quasi quasi io vado a ucciderli in attivo Guarda dove andano la pia Oh C'hai fatto a morire L'inattivo è quello là Quasi quasi io lo vado a uccidere Vieni un po' Eccolo là lo vedo Piato Piato Ah L'ho presi due Che è un altro inattivo quello Come sai che è un altro inattivo Guarda quanto son fame Daniel Guzan Quanto son fame Guarda gli infami eh Sono venuti a fare Che è l'inattivo No non è l'inattivo quello Vabbè l'ho ucciso lo stesso Poco mi importa Sì però qua me devo Me devo togliere i coglioni qua Me devo togliere i coglioni Cos'è che se metti la prima persona Vai più veloce? Ah c'è il mini car Non è pure te Metti la prima persona Vai più veloce C'è sta sto glitch Ma che ne sai Eh? Che ne sai Sperimentato C'è troppa polvere qua Oh 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 l'inattivo Andiamo da l'inattivo Guarda l'inattivo Guarda l'inattivo Di nuovo Guarda l'inattivo Guardalo Vedi Guarda Daniela Si vede un'icona che gira Guardalo Pare incoglionito pare No No lo stanno a difende Stanno a camper Ma che c'è un minigun ancora? Si Eh quello che stavo a destra Lo sapevo Era scontato perché Stanno a difendere l'inattivo Stanno a difende La mia moto ha abbandonato la sessione Eh forse è andato a fare quello con la scia Vi piaceva del più secondo me Molto E' buon C'è cos'è Gli attenti Su Sì C'è Gli attivo Il Gli attivo Gli attivi l'unico e vabbè vabbè tania ci stanno a due tre inattivi ma quanti sono? ma che cazzo porco droio guarda quanto si sto a sbrigà guarda per salvare gli inattivi non fa in tempo ma guarda quanto corre daniele guarda quanto corre sbrigati oh non ti ero da me ma quanto piotti oh non ti sta a regolare guarda quanto piotta ma mamma mia mi sto a divertire troppo a sta partita ah bombevi ma non c'è stato nessuno ah loro ancora non c'hanno il fucile a canne mozze eh vabbè un piccola distrazione eh vabbè capita eh mo c'hanno oh sono spawnati davanti a me gli inattivi ma che culo no c'hanno il macete cristo dio no c'hanno il macete se ne uccidete uno io ve vinco ve lo dico chiaramente no cazzo eh non so dove stanno ecco abbiamo perso che palle c'avevo i due inattivi davanti va bene a che ora sta sì eh ancora un altro po' da mezz'oretta più o meno eh io mi sa poco poco di meno un'altra partita eh lo so perché perché padevano usare i bu ah vabbè dai appena arriva al monitor hdmi eh yes no più che appena dove c'è eh boh non lo si vede come fa se riusciamo il sistema in qualche modo comunque c'è allora in realtà non so ancora tornati però penso che c'è una cioè è andata una diecina di minuti è che ci stava prima mi immagino eh infatti ho sentito no 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 eh invece eh vabbè dai al prossimo al prossimo pomeriggio dai sì 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 eh il prossimo pomeriggio il matico pomeriggio di mi madre perché più che altro io c'è stare tutti quasi tutti pomeriggi quindi eh sì poi mi sono messo in opposizione non vuol dire più lo stavano sotturato c'è il genio guarda quello daniel c'è stato detto che fa abbastardata eh eh lo vedo dietro ho 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 non ha preso ma che palle ma li mortacci su no 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 porca puttana no uno gira più velocemente l'altro più lentamente gli stai perché vabbè forse all'attività da quanto finisce quante partite so eh non lo so quanti round hanno messo no c'hanno il mini can vabbè io faccio sto round e poi mi devo dare no ma c'hanno il mini canto ma che palle proprio quando sto passando fra le redi scicli sui e ancora stavo a metà del lancio razzi ma che schifo è che palle a me non mi piace devo andare nella mia posizione vantaggiosa se no questi con minigun no un contenere un qualcosa già no oggi sono voi cosi ma quando disegni ricarica perché mi pare logico non 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 ma lancia un po troia estremo Mannaggia le suinelle Ultimo fattoria un corpo Guarda che camperini Oh Beh su Ecco Ma stanno con il rivolverino Sì Stanno a fare camperini Tacchi loro Mortaccelli loro Guarda quello Eh peccato che lo stavolo sta alla mia sinistra però Ecco Sto curo zan E' tosto eh Se me stanno a circondare Me stanno a circondare Tu l'ho preso Eh vabbè ma me circondano questi Che palle Stavate da fa schifo eh Oh Ma manco la assist Guarda quello Guarda quello Guarda quello Oh Revolverino Vaffanculo Bastava All'anculonia col fucile a pompa Ma dai su manco io Sta stessa distanza su E' ne tolto l'un per cento Proprio Ha già finito ma che Che schifo Mi è andata è finita la partita Tu Non mi piace poco Sotterraneo Un sottero Sto proprio 48.000 Cioè E' comunque Se pensi poco Però 48.000 Se perdi Versa Se vinci Se vinci Non vediamo Tipo 90.000 Non mi piace Non mi piace Vabbè che eravamo pure di meno 108.000 Minimoto Minimoto Vabbè io senza che entro dentro un'altra cosa Esco direttamente Dai mi sentimo bene O domani o dopo domani Forse Daniel Forse 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 L'8 Il 9 E il 10 Perché non ci sta a scuola Molto probabilmente E poi la domenica Sicuramente no Perché Mi faranno fare Dei compiti Anche se non ce li ho Vabbè la conosci la storia No Sì 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 Va bene C'è novità Senza C'è se magari c'è una novità Flash Eh Anche se so che comunque Novità medici Magari per telefono Ah vabbè Eh guai Giusto Forse l'unica novità Che potrebbe venire Matteo Se ci riesce a stare al gioco Tonto Tonto Vabbè Vabbè Ocronomodivo Ci stanno Ah Fai una cosa Cercate i modi Petrolla Su gta Ok Dei dividere Perché Non è come Minecraft E' più Eh Cerca dei modi Petrolla A modo tale C'è C'è C'è